Ciao YouTube, sono Martina e stiamo praticamente tornando dall'ultimo giorno di scuola e diciamo che è stata una cosa tragica perché abbiamo fatto solo due ore e sono state noiose e la cosa più bella è stata il venire e poi tornare a casa in foto perché alla fine sono venuta solo per quello perché Luca mi vuole bene e mi prende su e tra l'altro stamattina ho preso su la GoPro nel naso ho preso su di tutto e di più da Luca perché siamo partiti siamo partiti che c'era nero ma un nero fotonico e lui prendendo l'acqua prendendo l'acqua io no porca troia il meteo ha detto che non piove fidati che non piove e infatti c'è il sole come più o meno vedete insomma non piove e io Luca arrivo a casa senza voce e Martina com'è il primo anno di scuola allora? Adesso che hai finito la puoi chiederti allora esatto io te l'avevo detto te lo chiedo quando finisci adesso hai finito e adesso te lo dici ecco allora è stato... beh dai non è andato male soprattutto perché è la prima e penso che comunque... comunque non sia pesantissima però ovviamente ci sono i professori a cui vai bene tu e a cui piaci anche tu ma ci sono quelli a cui non ci si va bene a vicenda città fisica ah tra l'altro oggi ho dato le verifiche di... di 60 euro grazie Luca ha dato la verifica di fisica e diciamo che il 5,12 che avevo di media diciamo che mi si è abbassato un po' perché mi ha messo 3 come ti ha messo 3? ah ho il debito Luca no e questa è stata la mia giornata te? eh? eh? cosa? la tua giornata a parte che anche se la racconto non si sente perché la GoPro non sento un cazzo quando parlo io la GoPro non sento un cazzo? si non si sente quando parlo io, sento molto meno allora... la psichiforme asli beccali ci sono i cavalli qua, non so se c'è lì a fuori, di solito c'è lì a qui in corte scusate nei cavalli in corte no non ci sono, sono là sono là dentro là dentro... ah guarda là guarda no che tanto e niente insomma hai visto che hai fatto bene a fidarti di me perché vi ho detto che non pioveva e non abbiamo preso una goccia dai le uniche che abbia preso sono state quelle del camion che avevano davanti ma... ma si vabbè ma ce l'ho messo un passardo ma vabbè dai te la pulisco io la moto ma vabbè appena mi inviti il po appena mi inviti da te io voglio ma no non hai pre no andavo da un po' di più di più ma forse è nuovo e niente cosa dire io sto aspettando il patentino del 125 così dopo rompo un po' e po' le scatole a Luca e diciamo la compricola e tutti gli altri vai e così mi aggrego anche io e magari vedrete meglio anche la mia moto una volta che l'avrò finita si è work in progress esatto la mia moto è work in progress e niente Luca è un figo e mi vuole molto bene mi vuole massa bene massa, massa! c'è bene un po' ma non c'è il pallino rosso ma c'è il pallino rosso ma c'è il pallino rosso e se li tolgo e niente magari se vedrete un taglio perché probabilmente c'è il cambio batteria ma perché io sono da lui esatto perché Luca viene a scuola con le due batteri della GoPro e quindi la GoPro sotto la visiera non è simpatica grazie e niente siamo a Villa Poma City stiamo tornando a Casina e magari dopo se Luca vuole vi lascia una fotina della Martina perché il casco è figo e anche la maglia merita quindi c'è un cheat on hill e quindi magari e ce l'ho anch'io sotto la maglia non si può vedere ecco e magari io c'è solo il giubbino che sono fredoloso e c'è il copyright grazie eh sto controllo io c'è il copyright sulla maglia c'è il copyright sulla maglia c'è il copyright sulla maglia c'è il copyright e quindi little moment of mad people tradotto per Luca perché bravissimo in inglese piccoli momenti da persone malate di mente e niente che cazzo fai Luca la salita che cazzo fai dai che abbiamo il Range Rover dietro e quindi Luca prese strade a caso e vamos a un giretto oh dopo devo farti vedere una foto Luca in Veneto è carinissimo c'entra l'Apolo quindi magari ci vai anche d'accordo non si sa mai questo è bello del nord Italia non è mia magari forse è mia le voglio tutte le riporto per pagliare tutti eh ma c'è la telecamera che appoggia però là che stono è pure quello eh beh però almeno si cresce bene eh colmai si cresce bene eh cbcr cresci bene che ripasso quanto mi paghi per questo vlog? eh si dai siamo a posto eh l'ho ripasso che ti ho portato a suono eh beh ti poco la benzina oh ci sono mi regalo i tre oltre a cento tre e mezzo fai te due tempi mi regalo i trecento due tempi ma te non lo sai ma io cago bevite d'oro e niente direi che la scuola è finita inizia l'estate è andato in pace è andato in pace è andato in pace esatto eeeh e non so ma che dire mettete i miei piatti solo perchè è una martina sui trecento dieci caliamo ne avremo un milione ha diventato la vicenda arriviamo a un milione facciamo money molti money eeeh porca troia vi veniamo a trovare a casa uno per uno se lascialt'un commento veniamo tutti e due con un jet privato eb�iamo a fare un giro amatina 500 Like no, questa è una ponte va bene, uk va bene ahah ma io che sto mai separando i 50 they i 5 50 ele eh lukas a fuga che ore sono multino? 10.50 Ok Ciao ragazzi Bella rega